che bello quando sbanchi su a milano comunque sia strisciata è una bellezza spavarderia romana con destrezza orgoglio giallorosso sia romano 2 a 0 applausi detto con chiarezza bisogna essere grandi e a nasce piano gioca imponendo il ritmo a tutto il brano che è in armonia dei soni e dei torcezza del gioco il primo corso deve azione il 2 e di florenzi a chiuder conto ma è la roma tutta da ovazione nessuno che non lotti senza sconto per questi tre punti buoni ogni occasione ma qui a milano meglio per confronto non lo ha vinto Grazie a tutti.